le domande infatti lo vedremo poi vi mostrerò tutte le tappe tutti i mestieri le figure professionali di cui avrete bisogno aspettiamo solo l'ultimo ho detto prima che Gaza Sderoth è un'idea di produttore il primo che ha avuto l'idea è un signore che si chiama Arik Bernstein che vive a Tel Aviv e la sua idea alla base non era di fare un documentario web e la sua idea di base non era quella di fare un documentario la sua idea era di raccontare la vita quotidiana la sua idea era quella di raccontare la vita quotidiana a Gaza a Gaza allora più precisamente Gaza City quindi più precisamente Gaza City che è nel nord della striscia di Gaza che è nel nord della striscia di Gaza e perché alla fine del 2008 è prevista la fine la fine della tregua la fine della tregua tra i palestinesi e gli israeliani c'è stato c'è stato a peu près in tutto caso c'è stato qualche mese di calma c'è stato qualche mese di calma e fin 2008 c'è prevu come la fine della tregua e quindi la fine del 2008 era prevista la fine della tregua e quindi ovviamente tutto il mondo si attende a un changement e quindi tutti si aspettavano un cambiamento e quindi poi ci ritorniamo su questa cosa e l'idea d'Arric c'è di fare dei programmi curi per la televisione la sua idea era quella di fare dei programmi brevi per la televisione e quindi il domanda a Arte che è la scena francese culturale che è un canale francese culturale che è una scena di televisione di servizio pubblico un canale pubblico comunque Artè di servizio pubblico di servizio pubblico sì e e e e e Artè gli ha detto noi non sappiamo fare dei programmi documentari corti e non sappiamo come diffonderli ma gli hanno detto anche c'è qualcuno che sta per arrivare nel nostro canale e e che ha detto una cosa molto importante in Francia che ha detto qui io voglio che gli internauti quando vengono sul sito d'Arte io non voglio che vengono per consultare i programmi cioè non il guide dei programmi ma voglio che vengono per découvrir dei contenuti fabbricati per internet e questa persona ha portato un'innovazione cioè ha detto io non voglio che gli internauti vengano solo sul nostro sito per consultare la guida dei programmi vorrei che apportino proprio dei contenuti dei contributi quindi questa persona si chiama Joelle Ronèze e questa persona si chiama Joelle Ronèze e e anche Alma e e e e e e e e e ed è stata la prima persona in Francia che ha detto vado a investire dei soldi per fabbricare dei contenuti veramente 100% internet per fabbricare dei contenuti 100% internet ok quindi voilà per il contesto di produzione c'è un'idea di produttore quindi questa è un'idea di produttore per quanto riguarda appunto la produzione e quindi ci siamo trovati a fare una coproduzione internazionale quindi ci siamo trovati a fare una coproduzione internazionale con due produttori israeliani un produttore gazawi un produttore di Gaza due produttori francesi io per internet e un altro più produttore delegato e un altro che era più un produttore delegato cioè significa che lui gestirà la cassa e l'editoriale e poi l'editoriale c'è un produttore molto molto forte che si chiama Serge Gordet che è un produttore molto molto forte che si chiama Serge Gordet potete che l'avete visto il ha recentemente produito un film che s'appelle Five Broken Cameras forse l'avete già visto perché lui ha prodotto recentemente Five Broken Cameras non so se è stato tradotto in italiano è un film che è stato nominato agli Oscar l'anno scorso e è stato nominato agli Oscar l'anno scorso e è un documentario molto forte molto duro è un film hollywoodiano di creazione produzione e parleremo del budget eccetera quindi qualcosa di molto importante prima di iniziare una cosa molto importante prima di iniziare come interfaccia è qualcosa che si riprodurrà poi sistematicamente è una forma di design così un entonnoir ad imbuto il titolo il titolo c'è una una rapidissima presentazione del programma e immediatamente quello che io chiamo una call to action c'è un solo bottone e l'occhio automaticamente si ferma lì voilà non c'è bisogno di un avvertimento e se clicco su vedere il programma voilà carico l'interfaccia ritorno al primo giorno siamo al 26 ottobre 2008 e il primo contatto dello spettatore con il programma è proprio questo e là immediatamente si aperce e immediatamente ci si accorge che posso passare da un lato all'altro allora lo split screen non sono io ad averlo inventato ma lo split screen interattivo come celui ci però quello interattivo come questo qui mi interessa molto perché dice tante cose perché siamo noi a decidere di mettere Gaza e Sderot sullo stesso piano ma c'è una postura editoriale rischia è una decisione editoriale rischiosa perché Gaza perché Gaza onestamente la gente è in prigione a Gaza a Sderot la vita è difficile la vita è difficile ma le persone sono libere e là attenzione quando parliamo di Gaza quando parliamo del conflitto israelo-palestinese e ovviamente attenzione quando si parla del conflitto israelo-palestinese io non voglio fare proselitismo veramente io parlo franchement vi parlo onestamente e l'idea di essere anti israeliano o pro palestiniano non l'idea di essere pro israeliano pro palestinese niente di tutto ciò io personalmente guardo e e amo sia israeli che la palestina onestamente ma è un argomento complicato ovviamente si e e e e e e e vi vado a mostrare i primi due film filmati allora est-ce che tu crois qu'on peut etendre la lumière si può spegnere la luce j'espère que vous allez voir avec les sous titres spero che ci siano i sottotitoli che si possano vedere così capirete così capirete abbiamo abbiamo dovuto prendere il cavallo per poter animare il matrimonio si è obbligato a farlo non c'è altra scelta dobbiamo celebrare il matrimonio in grosso non ha però benzina per arrivare ci alla non 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 Posso passare anche dall'altro lato Non avrei voluto essere da un'altra parte Il problema di connessione C'è un problema di connessione La cosa importante è la sincronicità C'è nello stesso momento A Gaza e a Zero La nostra decisione è quella di non mostrare mai una parte senza poter mostrare l'altra allo stesso tempo Ma è veramente un documentario quasi in tempo reale Poi torneremo sul processo di produzione perché è complicato Però sull'interfaccia adesso Il fatto di poter passare da un lato all'altro in questo modo Così facilmente E che nella realtà è totalmente impossibile una cosa simile Questa è un esempio di un'interfaccia che dice qualcosa C'è un'interfaccia politica Anche se il design è molto sobrio Non c'è grafica Non c'è grafica Non c'è design E un fondo nero Basta Bianco La scrittura in bianco E questa linea arancione al centro Che si muove Chacun può y voir Ognuno di noi può vedere Può vederci Quello che vuole Può essere un muro ad esempio Può essere una frontiera Qui c'è un simbolismo in questo E questa linea è anche Una linea del tempo Perché ci sono quattro maniere di navigare nel programma Qui sono quattro grandi ingressi Ingressi Comment dire Voilà On è veramente Dans la dramaturgia Dans la dramaturgia Ad esempio Si C'è Il tempo Il tempo Il personaggio Il personaggio Il lieve Il luoghi E dei temi E i temi Voilà C'è quattro grandi entrée universelle Quattro ingressi universali E donc cette linee là Pour naviguer Là je suis le 26 octobre 2008 Per navigare Vedete 26 ottobre 2008 Et voilà Je continue Scorrete con le date Et donc je peux naviguer par le temps Quindi posso navigare nel tempo C'è una cosa molto bella l'interfaccia C'è stata dire Una sorta di montaggio parallele Però non ho capito Nel passaggio Da un all'altra Si mantiene il tempo O io li vedo in sequenza Cioè io passo allo stesso tempo Nell'altro video Si l'internauta ne fa rien Se non fa niente l'internauta Tu regardi un film Tu guardi un film Donc tu choisis au début Droite ou gauche Quindi all'inizio scegli Destra o sinistra Et après Une fois que le film est terminé Ça passe automatiquement A l'autre Dès le début Ou on continue Avec le parallèle Si je suis dans un côté Et je passe de l'autre côté On passe à la même date Si si Parce que l'espèce č 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 Il fatto che ci sia una cattiva connessione fa un po' non fa capire. Tu riprendi il film da dove si era fermato, passi dall'altro lato alla stessa data. Il principio è che non debba tuffare questo continuamente. Il principio è quello di non avere mai uno senza che l'altro. La navigazione deve restare molto semplice. Qui si ha una linea di tempo, quindi posso navigare e man mano... La navigazione è cronologica. Nessuno ritorna su internet ogni giorno per guardare il seguito, onestamente. Ma quando si naviga nel tempo, si ha una progressione cronologica, esattamente nella stessa maniera in cui abbiamo filmato i nostri personaggi. Ad esempio, questo personaggio qui, se mi piace questo filmato e questo personaggio, posso andare a scegliere un'altra maniera di scoprire la storia. Cioè, abbandono la navigazione cronologica e in questo caso posso ritornare al menu e riguardare l'istoria di questo personaggio. E quindi, là, io faccio... E ancora una volta, siamo nel 2008. E ancora una volta siamo nel 2008. E là, io creo una ruptura narrativa. Qui, a questo punto, creo una rottura narrativa. Cioè, non ho più una sola maniera di scoprire la storia, ma assieme agli spettatori. E, malgrado questo, ho la storia. E, malgrado questo, ho la storia. per raccontare una grande storia. Una domanda. Quando lo schermo è... Quando le cron è divise... Le due storie che vengono raccontate nelle due parti, oltre ad essere, ovviamente, una a Gaza e una a Sdenoth, hanno anche una similarità tematica? Cioè, per esempio... Questa racconta un tema. No. No. Solo sulla prima. Solo sulla prima. C'è un hasard. Ma è un caso. Che i due personaggi siano dei musicisti. Che i due personaggi siano dei musicisti. Ma, altrimenti... Non c'è un contatto tra le due parti. Non c'è un contatto tra le due parti. C'è a dire che... E il faut bien se... Guarder en tête. E questo, bisogna ricordare che fa parte della difficoltà della produzione di questo programma. C'è che... A part, c'è le producteur. Quindi, nei produttori, ad esempio... Un israeliano non parlerà mai ad un Gazaoui. E un Gazaoui parlerà mai ad un israeliano. Un israeliano non parlerà mai ad un abitante di Gaza. E il contrario, anche. All'inizio del programma non c'è nessun contatto tra i due. Anche i server FTP, le email... Anche i server FTP... Tutto è differente. Par exemple... Là, c'è un musicien. Ad esempio, qui abbiamo un musicista. Ici, oui, c'è un musicista. E anche qui c'è un musicista. Ma è un caso. Sinon, là, c'è un pescheur. Qui c'è un pescatore. Là, c'è un épicier. Qui c'è un venditore di spezie. Elle, elle è coiffeuse. Lei è una parrucchiera. Elle, c'è un étudiante. Lei è una studentessa. Voilà. Mais ce qui va riunir... Tutto quello che riunirà... C'è che... On va toujours filmer... E che... La vie quotidienne. Andremo a filmare la vita quotidiana. C'est-à-dire, on va... On va parler d'une situazione di conflit... Quindi parleremo di una situazione di conflitto... En documentant la paix. Documentando la pace. Voila. Et il y a une regla editoriale... Che è très très forte. E c'è una regola editoriale... Che è molto forte. C'è che chaque film... E che ogni film... Ogni filmato... Il y a une unité de temps. Un y a de lieu. Et une unité de personnages. Un y a de tempo... Di luogo e di personaggi. Ça veut dire qu'il y a très peu de montag. Questo significa... Che c'è pochissimo montaggio. Quand je dis unité de temps... quando dico unità di tempo significa che in un filmato non posso cominciare la mattina e terminare la sera devo essere in una continuità di azione unità di luogo significa che nel mio filmato non cambio luogo però se sono con il guidatore dell'ambulanza e che lo filmo nella sua ambulanza lì ovviamente percorro un percorso ovviamente mi sposto però l'unità di luogo è l'ambulanza e poi unità di personaggio significa che non c'è non c'è un incrocio un incontro tra le persone tra i personaggi nel stesso filmato è arrivato una volta per hasard è successo solo una volta ma per caso perché lui è l'epicier perché lui questo signore che vende le spezie era candidato alle elezioni municipali di Sderot e per fare la sua campagna a un certo punto mentre lo seguivamo nella sua campagna lui incontra Yafa che è la coiffeuse che è un personaggio lui incontra la parrucchiera Yafa che è un personaggio e lui promette di votare per lui davanti alla telecamera e poi quando seguiamo Yafa che va a votare vota per un altro e poi quando seguiamo Yafa che va a votare lei vota per un altro per esempio Yafa è molto interessante il suo salone di coiffure è un androio dove il suo salone di parrucchiere è pieno di gente che arriva questa maniera di navigare per personaggi è stata la maniera preferita dagli internauti ma è anche dove si ha maggiore continuità nelle storie una cosa che però è molto forte è che io avevo fatto delle proiezioni per tutto e delle volte io mostro solo Gaza a volte mostro solo Sderot o io mostro solo i due musicisti ogni percorso è molto personale dipende molto dall'umore poi c'è una terza maniera di navigare ovviamente il conflitto israelo-palestinese è una posta in gioco di territori quindi ci siamo detti che una cosa interessante nella maniera di navigare poteva essere di avere l'opportunità di navigare per carte avere l'opportunità di navigare per mappe e anche per poter mostrare la prossimità delle due città perché l'immagine che si ha è che le due città siano molto differenti noi diciamo andiamo a guardare perché la prossimità è più che la geografia perché la prossimità a volte è qualcosa di in più della sola geografia e là per esempio se vedete qui questo boschetto Asderot Asderot oh, io sono io sono là è veramente vicinissimo e quindi se voglio posso navigare direttamente nella carta e là, voilà io ho il mio filmato a casa e io ho il mio filmato a casa e poi sempre Sderot che spinge dietro e poi sempre Sderot che spinge dietro e poi sempre l'altro lato che in una maniera o nell'altra appare e poi quattrima maniera di navigare è per temi cioè ogni volta che si ricevono dei filmati e che lì si mettono nello strumento di pubblicazione si attribuiscono delle parole chiave e questo è stato molto successo anche questo ha avuto molto successo perché siamo riusciti a mettere delle parole chiave un po' diverse da quelle che ci si aspetterebbe allora, bien sûr, j'ai, bien sûr, j'ai frontiera ovviamente abbiamo frontiera e io ho frontiera soprattutto a Gaza logico logico questo bien sûr, j'ai Roquette Razzi Razzi Kassam è questo là, j'ai 18 film Roquette perché Sderot, la particolarità di Sderot la particolarità di Sderot c'è che i sono a portata di tiro e proprio che sono a portata di tiro da Gaza e soprattutto da Hamas e le Hamas envoia e Hamas non fa che inviare ce qu'on appelle dei Roquette Kassam dei Razzi Kassam che sono dei Roquette artisanali che sono dei Razzi artigianali che onestamente non hanno fatto beaucoup di morti in 10 anni che onestamente in 10 anni non hanno fatto moltissimi morti ma che imprime una pressione quotidiana su la ville che danno sempre con un'impressione quotidiana sulla città con le sirene con i punti di rifugio quindi molti filmati relativi ai Razzi Kassam sono a Sderot ma quello che io preferisco come parola chiave e canzone e dreams e dreams cioè sogni e là voilà io posso avere una navigazione dove io posso observare per tema cosa si dice d'un côté e dell'altro posso vedere posso avere una navigazione per temi e capire cosa si dice su questo tema da una parte e dall'altra io vi mostro un filmato che a me piace molto quello che tu ci hai appena detto sui Razzi Kassam è stato detto da qualcuno nel filmato oppure è una diciamo conclusione vostra che avete maturato osservando le cose sì c'è soit quelqu'un che parla e sia qualcuno che ne parla soit una sirene che se déclenche una sirena che soit un bruit di Kassam oppure un rumore di Razzi Kassam ma sono delle cose che vengono dopo quando si filma non si sa assolutamente quello che succederà davvero si tratta di vita quotidiana ma question è le cose che hai detto di Rocke Kassam che hanno più d'impression che la magia reale è una cosa che è dita bien certo sì ovviamente è una cosa che viene detta non viene detto come l'ho detto io ma è detto tu lo comprends molto bene ma lo potete capire bene tu lo comprends le contenuti si ripetono tra le diverse quattro modalità di navigazione le contenuti si ripetono tra le quattro modalità c'è le même video sì sono gli stessi video sì e c'è il y a 80 video 40 ci sono 80 video 40 e 40 e c'è giusto una maniera diversa di scoprirli quindi se io lo guardo in una delle quattro modalità le vedo comunque tutti 80 sì 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 io essaio questo film là se tu puoi riuscire a tradurre è un film difficile tradurre ma c'è un film con un film con un film con un film che c'è molto humor quindi cercherò di tradurlo siamo con un amico musicista che discute un popolo un popolo unito di daramalla a un popolo unito attraverso la cifra da qualche giorno gli egiziani non vogliono essere pagati in dollari in dollari in dollari egiziani quando tu paghi l'egiziano 20 o 50 milla shekels preferisce metterli nelle banche egiziane queste banche le scambiano in israele in dollari tutto questo va a beneficiare israele a gaza si deve solo creare una moneta locale con le foglie degli alberi faremo i biglietti da 50 con le foglie di luce vista la penuria degli shekel chiameremo la nostra moneta UU tutto questo a causa dell'assedio dell'assedio i biglietti di staventi con i biglietti da 200 con le foglie di banano prima le barzellette che venivano dall'Egitto passavano dal post frontiera oggi con i tunnel stretti le barzellette vanno fatica a passare per favore mandateci un po' di barzellette ma non dal tunnel non la fate passare dal tunnel la scatola di uova costa 15 shekel meglio vale tovarle che mangiarle ti giura la vita è cara siamo costuti la lampada di kerosene è passata da 3 a 18 shekel 25 shekel sì dopo l'utilizzo quando la corrente ritorna io prometto con i gioielli di mia moglie perché se ce ne sono ancora è grave è grave sì la Cisgiordania ci appartiene on è attorno di un fuoco il tipo di montaggio non siamo in un piano sequenziale ma siamo nello stesso momento nello stesso luogo con gli stessi personaggi e in più e in più abbiamo una dramaturgia abbiamo un inizio un climax con l'humor e poi la fine con la canzone l'istoria il film si consomme entièrement il dice qualcosa in 2 minuti 30 il racconta il filmato racconta davvero qualcosa in 2 minuti e 30 quindi questo è uno dei filmati più rappresentativi di quello che abbiamo cercato di fare nel quotidiano una cosa su questo programma questo film è stato filmato il 9 dicembre tutto il programma durante tutto il programma c'è l'operazione piombo fuso c'è a dire che tutto il programma abbiamo persone che da ogni lato ci dicevano la situazione deve cambiare e la risposta è stata che nemmeno 15 giorni dopo questo filmato c'è stata l'operazione piombo fuso quindi non so se vi ricordate l'operazione piombo fuso non è una guerra è un attacco ci sono stati 1500 morti a Gaza e due morti in Israele quindi è noi il nostro calendario di produzione il nostro ultimo filmato è stato il 23 dicembre l'operazione piombo fuso è cominciata 25 è pianificata per il 24-25 quindi ci si ritrova in una situazione in una situazione allucinante a aver documentato qualcosa cosa che poi non esisterà più ma al momento è la stupefaccia veramente eravamo stupefatti era un diluvio di bombe su Gaza e con tutte le nostre equipe i tecnici i registi non avevamo più contatti non avevamo più scambi telefonici e il conflitto e il conflitto l'operazione piombo fuso parte da Sderot c'è a dire l'excusa del governo israeliano la scusa del governo israeliano era dire stop smettetela con i razzi Kassam questa era la motivazione e questa è stata l'unica volta che mi sono trovato a produrre qualcosa che era proprio nel cuore dell'attualità e la prima delle domande che tutti ci posano è continuerete a filmare? perché abbiamo delle equipe quindi si può filmare volendo che cosa avreste risposto voi? complicato noi abbiamo detto no immediatamente immediatamente la prima ragione era perché questo programma parlava di pace non di guerra la seconda ragione è che non si filma la guerra nella stessa maniera con le stesse persone la guerra è un altro soggetto un altro argomento e allora poi possiamo anche dare altre ragioni ma che non entrano nel choix poi ci sono anche altre ragioni che non entrerebbero in questa scelta ma ovviamente le persone che filmano a Gaza l'urgenza di filmer ce n'è più di fare un documentare l'emergenza di filmare e più che altro di dare delle immagini ai telegiornali e non per farne un documentario è evidente c'è dire che le persone che si filmerà a Gaza perché ce che bisogna sapere su questo programma è che le immagini sono fatte a Gaza par dei gazawi e a Sderot par dei israeliani perché le immagini sono state fatte a Gaza da delle persone di Gaza e a Sderot da delle persone israeliane anche se questo programma si rivolge ad un pubblico occidentale ma è davvero una coproduzione con dei tecnici che non vengono dall'Europa i realizzatori sono sul posto la gente che era sul posto e che ha filmato magari dopo è andata a guardare il lavoro questa operazione tra virgolette di pace tra virgolette di pace potete perdere anche di credibilità dopo nella della faccina della nostra scuola perché c'era stato quello che ci sono comiglia dell'operazione non, al contrario al contrario non, non, c'è veramente il contrario c'è un document documentare extremamente rare e un documento un documentario molto rare perché oggi ad esempio non si potrebbe più ripetere una cosa simile 6 mesi prima dell'opera non si sarebbero mai potete mettere due telecamere sullo stesso piano là c'è più possibile ça tient più politicamente editorialmente non si può più fare non regge più questo no, no allora all'epoca c'era una versione a bassa gamma ma come abbassare c'è a dire c'è a dire senza l'interface cinematografica quindi interfaccia cinematografica senza interfaccia cinematografica quando guardo un film qui posso continuare posso continuare con lo stesso personaggio nello stesso momento posso guardare cosa avviene a Zderoth e ieri a Gaza c'è a dire che si cerca comunque di riportare questa sincronicità anche nell'interfaccia semplificata è stata una delle prime volte in cui Arte ci ha autorizzati a diffondere i filmati all'esterno del sito c'è come oggi su YouTube tu puoi embed un film quindi come potete incorporare un film su YouTube oggi copia copia incolla e in un clic tu publie il film su ton blog e potete pubblicare il filmato sul vostro blog ad esempio all'epoca questa sembrava una rottura industriale c'è un canale accettasse che questo venisse ripreso altrove all'esterno e questo sarà uno degli elementi di successo del sito perché si crea si riesce a creare una maglia come potete dire c'è che crea plein de punti di contatto con il programma e notamment par exemple il ha 3000 sito in particolare ci sono più o meno 3000 siti che hanno embarqué almeno una fois una video che hanno messo almeno una volta uno dei video dei filmati quindi su alcuni siti ci saranno 200 300 spectatori per un filmato e su altri solo 5 o 6 super fine va benissimo anche i piccolissimi luoghi c'è là o se passe e là dove avviene tutto c'è là o il la vraie audience c'è c'è qu'on è un vero audience di nicchia voilà esattamente avete dovuto convincere arte della bontà di questa idea oppure sono stati molto avretti dall'inizio no siete tre facili è stato molto facile perché è il debuto di arte che comprende l'internet perché era l'inizio proprio in cui arte capiva l'importanza di internet e quindi questo è stato un successo anche dal punto di vista commerciale si puoi dire insomma che c'è bueno allora arte è veramente una chaîne di servizio pubblico e dove non c'è pubblicità finanziata da Francia e Germania e quindi la logica commerciale per arte è qualcosa di un po' vago ce che c'è di che cosa che conta è di soddisfare la missione di servizio pubblico e se possibile di fare un successo di audience quindi sì questo programma è un grande successo di tutto il mondo è stato interessante quindi sì arte ha portato ha avuto successo in questo sì la condivisione di questi video però ai tempi immagino abbiamo fatto crescere comunque il sistema di ci va oggi si direbbe che aumenta il pagina su quale è posizionato l'interesse il fa de partager ce video ha peut-être augmenté la vision di complètement complètement c'est-à-dire ce maillage les milliers de points de contact questi millia di punti di contatto fanno rialzare font che le sit remonte dans google en tête ovviamente rimonta in google in testa a mon avio aujourd'hui non ma quindi a mio aviso oggi non tanto ma pendant très longtemps ma da molto tempo ah ma pourquoi c'est ma pas con di che par internet Non dico cavolate se vi dico che l'internet non funziona. Volevo sapere se il sito giorno per giorno viene aggiornato oppure se è stato un prodotto creato dopo la metà. E giusto può finire? Quando si mette Gaza, alla prima pagina abbiamo Gaza. E all'epoca? E all'epoca? Il è davanti a Wikipedia. All'epoca a Gaza Zeroth il è il primo. Google Mond, perché ci sono millie di liens. E quindi la notoriate del sito è non. Quindi un'opera anche sotto l'aspetto del marketing geniale? Oggi, se lavorate su un progetto simile, pensate al marketing. Cioè non è tanto il marketing quanto la distribuzione importante. Poi oggi pomeriggio vedremo degli esempi. La distribuzione viene pensata sin dall'inizio. E' stato proprio il caso di Gaza Zeroth. E' stato proprio il caso di Gaza Zeroth. Non abbiamo mai soldi per il marketing. Non abbiamo mai soldi per il marketing. Non abbiamo già non soldi per fare il film. Non, e io penso che non, non bisogna investire di soldi nel marketing. Non bisogna investire dei soldi nel marketing. Non bisogna investire. Non bisogna investire. Tu fabriques un contenu. E, per esempio, ci sono dei giornali. Qui hanno un'audience. Peut-être che se tu leur donnes ton contenu. Se tu dai loro il tuo contenuto, possono portarti dell'audience. Non, non, ma c'è tra giusto. C'è una question molto importante. C'è veramente... E, moi, j'ai una frase a moi qui dice... C'è più facile andare dove c'è l'audience che di far venire l'audience da te. Ci sono due miliardi e mezzo di internauti. Il y a dei miliardi di internauti. Quindi tu arrivi con il tuo programma e fai il cucù. E non c'è nessuno sul tuo sito. Non c'è nessuno sul tuo sito. Persona. Donc, oui, la distribution, le marketing. On verra avec Alma. C'è una combinazione di cose. Il marketing. Lo vedremo poi con Alma. E una serie di cose. Ma che non costano poi tanti soldi. Ma che non costano poi tanti soldi. Ma solo il lavoro. Il lavoro. Il lavoro costa di soldi allo stesso tempo. Il lavoro costano. Il lavoro costano di soldi. Ma non sono delle spese. E io, in più, non sono delle spese. E io, in più, non ho se ho il diritto di dire questo. Qui, in questo contesto. Ma io credo che il mio peggio è la pubblicità. Penso che il mio peggio è proprio la pubblicità. Si. Si. E io, in più. E io, in più. E io, in più. E io, in più. Ah, sì. Il mio peggior nemico è la pubblicità. Ehm. 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 Le rough, c'est il film i film sono girati, par esempio, lunedì. E su messi in linee, mardi o mercredì. E messi online il martedì o mercoledì. Se è... L島 reale, senti quasi temps reale. Quasi intest Saul reale qui. Sì, un genere di documentario particolare. Ehm. Per fare questo... Con un film dal vedo rel extездore. Con Repmis Kleingieck. da una parte del mondo, in cinque lingue diverse, perché c'è francese, tedesco, anglaise, arabe ed èbraico, bisogna essere molto organizzati, e in particolare la traduzione e la pubblicazione. Quindi il schéma di produzione è questo, da ogni lato, i filmano, e ci inviano i filmati non compressi, e tutti hanno un FTP per loro, e ogni film è accompagnato, ogni filmato è accompagnato, da un transcript, da un testo, e noi recuperiamo il filmato, e poi è stato Serge Gordel, il produttore delegato, che ha verificato, se nel film non ci fosse qualcosa che ci sembrava sospetto, se nel filmato non ci fosse qualcosa che ci sembrava sospetto, Ovviamente ci fidiamo, non si tratta qui di fiducia o meno, ma c'è la responsabilità editoriale. Però c'è una responsabilità editoriale. E soprattutto in questo caso, siccome siamo quasi in diretta, Arte non guarda i film prima di diffondere, Arte non ha la possibilità di guardare i film prima di diffonderli, quindi siamo noi a guardarli prima. E anche questo è una cosa nuova, perché ci hanno dato fiducia, non c'era una visione da parte loro prima, preventiva. Quindi, se tutto va bene poi, andiamo a codificare i filmati, perché siano meno pesanti. Eravamo nel 2008, quindi bisognava fare più attenzione. Poi si preparano delle immagini a dei formati che sono predäfiniti, in dei formati che sono predäfiniti, in maniera che le immagini si sistemino automaticamente. Par esempio, le immagini delle vignette dei film, par esempio, le immagini delle vignette dei filmati, o, in la newsletter, un format un po' più grande, eccetera. E per questo si utilizza uno strumento che è stato costruito su misura. E quindi, ogni editore... Quindi ogni editore... Quando dicono editore, c'è qualcuno da Upian che recupera tutto questo. E che sarà in charge di pubblicare. E che è incaricato di pubblicare. E quindi, on va choisire la ville. Quindi andiamo a cercare la città. On va rentrer il nome... Inseriamo il nome... Il nome della video, il nome del fichier, perché... Il nome del fichier... Il nome deve essere molto preciso, perché poi il nome viene richiamato diverse volte. C'è quello che ho detto, un'immagine, un screenshot... Quindi, come vi ho detto, un'immagine, uno screenshot... C'è la zona, ma... Non danno mai le vere coordinate, vi danno la zona. E poi la data di messa online. E poi la data di messa online. Ma che è un'informazione giusto per noi. Ma che è un'informazione che serve a noi. Dès che io faccio ok, save... Se faccio ok, save... J'arrivo ici... Arrivo a questa pagina... E là, ma no... Bensur, oggi, tutto è ok, tutto è verde. Oggi, ovviamente, è tutto verde, tutto ok. C'è finito. Perché è completato. Ma... Però, altrimenti, avrei... Je vais chercher le nom du fichier che mi demande. Vado a cercare il nome del file che mi serve. Ehm... 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 Un po' compliquè... Ok, on s'enfu... Voilà. E là... C'è... 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 Le traducteur... Qui, il traduttore... Il può traduire direttamente... Può tradurre direttamente... Dans il back-office. Nel... C'è... Ça veut dire che... On va... Pas vraiment rispettare... Nel quadro. Quindi non si va a rispettare, veramente... La regola di traduzione documentaria. La regola di traduzione documentaria. O normalement, on repart toujours de la version originale. Cioè che si riparte, normalmente, dalla versione originale. E on va privilegiare la reattività e la souplesse. E si va a privilegiare la reattività e la flessibilità. Ça veut dire que moi... Par exemple, il y a un premier traducteur... Quindi, ad esempio, c'è un primo traductore... Qui a rentré... Une traduction... Qui a inserito una traduzione... Immédiatement, un deuxième traducteur... Può repasser derrière... Subito, un secondo traductore... Che ci può ripassare... Pour reformuler la frase... Pour la rendre... Per riformulare la frase... Et puis, dès qu'une langue est terminée... Ça envoie un mail automatiquement... Pour dire... Ok, le français est fini... Vous pouvez commencer la version allemande... Appena è terminato... S'invierà... Verrà inviata una mail... Per dire... Che il francese è terminato... Voilà... E ensuite, une fois que les fichiers... Sono OK traduits partout... Una volta che i files... Sono terminati... Sono stati tutti tradotti... Les fichiers apparaissent... Ici... Là... Là... Il n'y a plus rien, évidemment... Ovviamente, adesso non c'è più niente... E je ne peux pas mettre en ligne... Un côté sans l'autre... E non posso mettere online... Un lato... Senza avere anche l'altro pronto... Voilà... Questo è un pannello di amministrazione... Quello che avete utilizzato... Per fare anche un montaggio... Immagino che questo lavoro... Sia stato progettato... Poi... E... L'avete utilizzato... Per fare questa cosa... Quanto tempo... Di progettazione del sito... Di scrittura... A parte di qualche ingegnere... Non so... E' andato... Cioè... Avete occupato... Avete impegnato... Per fare questo pannello di controllo? Eh... Beaucoup... Che. Molto... 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 Je ne ne sais pas dire... C'è... Ehm... Il y a almeno 150 giorni... Almeno ci sono stati 150 giorni... De... De... De code... De code... De code... Juste de code... C'è enorme... E' enorme... Lavorabile... Ehm... Je l'ai là... Il budget de Gazeroth... Oh... Il budget... Vuoi fare una pausa? Vuoi fare una pausa? Non? Ok. Ce che volevo vi mostrare, c'è... Vi ho parlato di questa prima riunione con Arte, in cui tutti erano riuniti. Per Gazasderoth non facciamo questo, ma la bozza è stata questa invece. Perché tutto il concetto è racchiato all'interno di questo schema. Questo è tutto nel split screen interattivo. Quindi una buona idea è la più difficile da trovare. Perché poi per la mettere in scena in un croquis è facile. Non c'è bisogno di essere grafici per realizzare questo. In realtà, quello che ha l'idea è quello che fa della grafica, ovviamente. È un lavoro di squadra, però... E finalmente, poco a poco, quello che era il webdesigner, diventa una sorta di regista allo stesso tempo. Ed è così che noi lavoriamo. E in l'occurrence, il ragazzo s'appelle Sebastien Brottier. E questa persona si chiama Sebastien Brottier. E lui ha lavorato in seguito su Gazasderoth, ma anche su Prison Valley con David Dufresne. E anche con Alma con gli autori. Ci si trovano una equipe di realizzazione con gli autori. Ci si trovano ad avere una equipe di regia. e il realizzatore multimediale con il regista multimediale. E quindi questo è un croquis. Quindi questo è un modello, una bozza. E questo è il file Photoshop. C'è Photoshop. C'è Photoshop, hein? Realmente, l'E-Wide reguli, il quello webdesigner è webdesigner. Il schéma che hai mostrato è quello il webdesigner, non quella della transposizione grafica. E lo traduzioni. Il schéma che ti ha mostrato è questo, il webdesign. Non la transposizione. Ma è bene, ecstamente. C'è tutto. C'è sia sempre questo. È sicamente quello. E poi, ecstamente, e poi, più o meno. poi dopo c'è più o meno facilità a la mettere in immagini anche questo è un concepto al principio abbiamo messo la navigazione in basso finalmente la mettere in alto ma importa non importa in questo schema questa è la parte dei personaggi e al principio abbiamo messo Gaza a destra Israele a sinistra e questa è una questione senza fine e anche il fatto dell'arabo che si inizia dall'altra parte da destra verso sinistra è stato un incubo c'è un'immagine molto simile molto vicino e anche l'ensemble dei croquis questo non si vede bene sullo schermo questo è il pannello quando lancio un filmato vogliamo che il cote si riduisse ma che si vediamo sempre vogliamo un lato si riduce però si vuole che rimanga sempre e al principio pensavamo che si potesse ridurre ancora di più ma poi ci sono state delle questioni di format video e quindi questo è anche molto importante è a dire che su questo tipo di programmi quindi l'importante è dire che su questo tipo di programmi tu sei sempre delle andate e dei ritorni cioè modifichate sempre provate qualcosa in teoria funziona e poi quando c'è in pratica non funziona più quindi bisogna ricominciare il design c'è senza cesse eeeh voilà allora eeeh questo sono dei numeri molto vecchi eeeh ce sono dei numeri molto vecchi ce sono dei numeri molto vecchi eeeh ce sono dei numeri molto vecchi che avevo scritto che avevo scritto eeeh oggi oggi non siamo lontani dagli 8 milioni di video visti eeeh perché vi parlo di video guardati visti perché in questo programma qui c'è l'unità di misura la più interessante c'è il numero di filmati visti su ALMA su ALMA ad esempio l'unità di misura è il numero di spettatori e la durata e la durata di visionare di visione su un altro programma che ho fatto che si chiama Generazione Qua che si chiama Generazione Qua c'è un programma autour della jeunesse e che è un programma che riguarda la gioventù che è molto partecipativo e lì l'unità di misura invece era il numero di domande a cui era stato risposto e vi dico questo perché è sempre molto difficile misurare il successo di un programma e io trovo che è interessante ma è personale è interessante trovare l'unità di misura che abbia più senso come si fa un budget di coproduzione internazionale? ci sono dei produttori ci sono dei produttori in questa stanza? ok quindi in gros per avere un budget bisogna sapere quanto costa per avere un budget si deve sapere quanto costa non è facile perché non è facile perché si tratta solo di stime che si possono fare perché bisogna fare un devis perché bisogna fare un preventivo prima di iniziare e quindi perché in realtà si fa una differenza tra i coproductori e le spese di denaro per esempio io potrei molto bene avere stato coproductore ma non aver fatto il codice e di aver commissionato un'altra impresa e di aver commissionato un'altra impresa che sarebbe una prestataria e in particolare in questo caso non ci sono prestatari quindi quindi abbiamo fatto un devis quindi il produttore a Gaza dice per fare 40 film quindi il produttore a Gaza ad esempio per fare un tot di film 40 filmati 40 filmati quindi ho bisogno di di aver di aver di aver stessa cosa io faccio un devis per l'interface il codice per l'interface i codici e poi gli altri producti pareil gli altri producti gli altri e gli altri e un budget il vero budget è 216.000 il vero budget è stato di 216.000 e e e e e là c'è un gioco perché qui c'è un gioco perché perché sai che se viene presentato alla perché si sa che se viene presentato al canale un budget più è Se si presenta al canale un budget che è più alto, il canale non potrà finanziarlo. Già si arriva ad avere 80.000 euro. Au début, i donnent d'abord 70.000 e poi i rajouteront 10.000. All'inizio loro danno 70.000 e poi ne hanno aggiunti altri. Grazie a tutti i soldi del canale e alla specificità dell'ecosistema di produzione francese, si può avere 90.000 euro dal Centro Nazionale della Cinematografia. Perché più o meno lo stesso anno o un anno prima, il Centro Nazionale della Cinematografia aveva deciso di aiutare le produzioni interattive. E ovviamente, quando gli abbiamo inviato il dossier della produzione di Casas Deroth, hanno detto sì. Lei dice sì perché il dossier è solido. Perché era un dossier solido. E poi lei dice sì perché c'è Arte che fa una lettera dicendo che mi mette 70.000 euro. E poi perché c'era anche Arte che ha detto che ci mette 80.000 euro. E quindi abbiamo 170.000. Quindi abbiamo... E questo costa 216.000. Tutto è costato 216.000. Quindi, cosa vuol dire? Quindi che cosa vuol dire? Che ci mancano ancora dei soldi. E quindi ci mancano ancora dei soldi. E quindi ci mancano di metto di nostra poche. E quindi, c'è questa la differenza tra prestatori e coproductori. Quindi, è questa la differenza tra prestatori e coproductori. Quindi, questo argento, tutto il mondo lo mette. Questi soldi sono tutti a metterli. E come abbiamo 6. E siccome siamo 6. È un po' più facile. È un po' più facile. Ça vuol dire che ce n'è forsemmo di cash. Quindi, non significa che siano dei contanti necessariamente. Può essere un apporto all'industria. Non so come si traduce. O per esempio, c'è qualcuno che dice sono riuscito a trovare delle telecamere gratuitamente. Quindi, la definizione del produttore, qual'è? C'è di finanziare. E di finanziare. Di perdere dell'argento. Di perdere dei soldi. Ma di avere il potere decisionale. E quindi, in avventure tipo questa. Il potere è tutto. Ça vuol dire che bisogna essere forti. Quindi, è necessario avere persone forti. E che sachano dove vanno. C'è qual è la direzione. Per avere persone che sanno dove vogliono andare. C'è importante il potere. Perché in una discussione con il canale o con altre persone. Con gli altri coproduttori. Il faut che un chef. Ci deve essere un capo. Donc, voilà. Coproduire c'è una responsabilità. Coprodurre è una responsabilità. C'è una responsabilità. C'è una responsabilità finanziaria. Editoriale, finanziaria. Alexandre, una questione. Quindi, la casa di produzione di Pian, su questo progetto, ha perso, ha dato a pari o guadagnato? Ah, ha perso. Ha perso. E, diciamo, quindi, da quel punto di vista, come, io immagino tu, abbia anche altri, solo 5 cofondatori di Pian, no? No. Le truc, se, je l'ai dit al début, il Pian ha due mestieri. Il Pian ha due mestieri. Sta in questo il trucco. D'un côté il mestiere di produttore. D'un lato il mestiere di coproduttore. E, dall'altro, il mestiere di studio. Dall'altro di studio. E, donc, on arrive, se tu vu, a compensare. Si riesce a compensare, se vogliamo. Voilà. C'è l'unico, in gros, moi, je piloto ma boîte avec la trésorerie. Quindi, io piloto la mia azienda con la tesoreria. Si, j'ai de l'argent. Se ho dei soldi. E se ci sono dei progetti come questo, si va. Si può dire che questo, quindi, è una specie di investimento in ricerca? Oui, ma io credo che c'è a peu près tutto il tempo il caso dans le documentaire. Ma, e credo che riguardi in generale questo sempre documentario. Dans le documentaire de creazione. Nei documentari di creazione. Se vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas là qu'il faut aller. Se volete guadagnare dei soldi, non è proprio lì che dovete andare. Mais oui, c'est de la recherche. Ma si, si tratta di ricerca. Mais c'est surtout le plaisir de faire des... Ed è il piacere di fare questo genere di cose. C'est pareil pour les auteurs, c'est pareil pour les photographes. La stessa cosa per gli autori, per i photographi. Tu fais ça parce que... Lo fai perché non ti poni delle domande. C'est parce que tu as envie de le faire. Perché hai semplicemente voglia di farlo. Ma, 4 milioni di visualizzazioni, l'avevo visto? 4 milioni di visualizzazioni. Poi dopo, non si ha comunque, a lungo termine, un ritorno d'immagine che possa aiutare anche l'altra attività. Oui, bien sûr. Si, ovviamente. Quindi diciamo che è un investimento a lungo termine. E de toute façon, il succès... In tutti i modi, il successo... È qualcosa che nourri il produttore. È qualcosa che nutre il produttore. Perché il successo fa in modo che tu farai un altro progetto. Tu vas pouvoir perdere ancora più d'argent. Quindi perderai ancora più soldi. Ma, tu vas fare un successo più grande, tu vas fare un altro progetto. E a la fine, tu fai un altro progetto. E a la fine, tu fai un altro progetto. A la fine, vai a fondo. Voilà, per Gazesse des Rodes, non so... L'ultima voce, dicendo, 52 minuti fino per la televisione. Perché dopo, l'opération Plomb d'Ursi, l'opération Piombo Fuso, il successo del sito... Arte ha demandé un film per la televisione. E che ha dato un film un po' strano. E che ha dato un film un po' strano. Di rifare un po' di attività, di riprendere un po' di contanti. Cassa. Break? Facciamo una pausa? Yeah? Si? Facciamo una pausa prazo? O... Too early? C'è troppo presto, non? Noi la facciamo quando cante, insomma. On la faite quand on arrive. Facciamo un'ora di pausa prazo. On fait une heure de pausa. Ouais, parce qu'après, là, on va passer, pareil, sur un gros morceau, donc... Parce que dopo passiamo su un altro grande pezzo, quindi il caso dice di farlo tutto insieme. C'è la pausa adesso, va bene? Ok. On fait la pausa. Ok. Ah, una comunicazione di servizio prima? Ah, je peux montrer juste un truc, si vous voulez. Ah, non, 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 je me suis trompé, merde, pardon. Non, non. Non, non. Non, non. Quindi, avete visto il mio email in cui mi invitavo a scaricare i clima, no? Sì, mi raccomando.